Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale, qui è Roberto che vi parla quest'oggi vi faccio vedere 5 liste da poter usare nell'evento sincro di Master Duel anzi, queste erano 10, vabbè, 5 liste che vi porterò oggi, sono 5 maggi totalmente diversi vi porterò una lista che è la prima di tutte, che è una bella lista per tutti i nuovi giocatori e detto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi piace sotto questo video per supportare i contenuti di Master Duel detto ciò fatemi sapere con commento quale mazzo state usando voi in questo evento vi ricordo che io leggo sempre tutti i vostri commenti quindi per qualsiasi dubbio che voi avete riguardo a una carta sostituzioni dec o qualsiasi cosa essa sia scrivete qua sotto che sono molto felice di potervi aiutare abbiamo un bel po' di gemme da farmare strada facendo quindi per farmare queste gemme abbiamo sia tramite i punti, ce ne daranno 500 ogni vittoria e 50 ogni sconfitta abbiamo anche delle missioni speciali come vedete queste qui sono le tre missioni, i tre gruppi di missioni per l'evento del festival sincro come vedete distruggere 10 carte, fare 20 duelli sincro e evocare 30 volte sono missioni molto molto semplici, sono fatte apposta per essere completate man mano che voi giocate l'evento quindi iniziamo subito con la prima lista prima lista è un deck alla nera questa qui è una lista per tutti noi giocatori che non hanno tantissime carte hanno una collezione nuova e vogliono completare questo evento per farmare gemme e costruire maggi nuovi con nuove carte e avere una collezione più ampia questo è il deck che io consiglio per loro, semplicemente per un motivo vi faccio vedere che il deck alla nera è tutto all'interno di uno structure deck vi faccio vedere, structure deck orgoglio alla nera con 500 gemme potete comprare una copia dello structure deck ne comprate tre copie con 1500 gemme in totale e vi faccio vedere che riuscirete ad avere tre copie di tutte le carte che vi servono soprattutto questo, questo, questo e le varie super rare che non sono craftabili come vedete qui dall'icona del martello andiamo avanti come funziona questo match è molto semplice cerchiamo di evocare vari mostri alla nera sul campo tramite loro che effetti poi abbiamo il vortice nero che qui è limitato a 1 ci fa pescare ulteriori mostri, andiamo sempre ad avere una mano per poter riempire il campo fare evocazioni sincro, rimettere altri tuner sul campo per evocare sincro più grossi vi faccio vedere alcuni mostri boss che questo deck può fare abbiamo il maestro, armatura completa alla nera che qui guardate che bellezza l'ho trovata bella, tutta prismatica con un evento che c'era un paio di tempo fa vi faccio vedere che è immune agli effetti delle altre carte quindi fortissimo come mostro abbiamo anche un bel 3002 che è molto fastidioso per l'avversario e qui voglio parlare giusto di qualche carta quell'extra deck che vi farò vedere non solo in questa lista ma anche nelle altre liste ha tante carte ultra rare barra super rare ora non consiglio di craftare carte per completare l'evento usate sempre le carte che voi avete quindi se voi non avete il drago polvere di stelle access sincro per esempio non lo craftate, fate come me, non lo giocate mettete semplicemente altri mostri sincro che al suo posto e ora vi faccio vedere come ho fatto con un'altra lista che vi farò vedere oggi questa è la seconda lista che potete usare in questo evento è un deck sword soul spada anima e praticamente anche qui l'extra deck è molto pieno di carte ultra rare e super rare se vi mancava che cosa vedete qui è tutto tranquillamente sostituibile quindi soprattutto mi rivolgo per chi è nuovo e magari non ha certe carte potete tranquillamente sostituire tutto tranne ovviamente le carte basi del mazzo questo è il mazzo spada anima l'abbiamo visto un sacco di volte in classificata come funziona mettiamo dei mostri sul campo che attiveranno il loro effetto ci evocheranno un token questo token è un tunnel possiamo avere accesso al nostro mazzo extra in più il mazzo spada anima è forte per la potenza delle carte che gli permettono di recuperare dopo il primo turno mettiamo a caso voi fate una board e ve la distruggono potete recuperare tramite ibi sud dal cimitero asuna che attiva l'effetto dal cimitero stessa cosa kadara in più abbiamo carte come talento tripe tattiche che qualora l'avversario usa una trappola a mano per esempio posso fare qualche cosa ma vi ricordo come sempre che le tech card che potete mettere in questo mazzo possono anche cambiare in base a quello che voi capete se non avete le tripe tattiche potete mettere qualsiasi altra tech card qui a destra vi faccio vedere alcune tech card che io tengo tra le preferite per ricordarmi ciò che ho nell'elenco va benissimo uno scontro a darmi pari che essendo super raro costa di meno andiamo avanti con la lista numero 3 lista numero 3 abbiamo il mondo virtuale mondo virtuale è molto semplice una volta che voi avete una carta scoperta sul campo potete attivare tutti gli effetti dei mostri mondo virtuale che avete dalla mano una sola volta per turno dopodichè potete fare tranquillamente evocazioni sincro abbiamo questo il rossi che è un tuner abbiamo ahime lulu che è un tuner anch'esso e nian nian che quando risorge dal cimitero diventa un tuner in più ho voluto aumentare la quantità di tuner che ci sono in questo deck tramite l'aggiunta del moji o del taia anche qui se non avete queste carte potete tranquillamente levarle e mettere qualche altra carta che voi possedete che ritenete utile o quantomeno una di queste carte qui che vedete a destra va benissimo i mostri dell'extra deck come vedete sono vari sono diversi io ho voluto mettere un mostro per tipo per farvi vedere alcune delle idee che ci possono mettere in questo mazzo per esempio faccio vedere che ci possono giocare carte come a Fenice e Cristron Fango Drago Fangoso abbiamo Ultimaia che ci permette di evocare la Chiara sono tutte carte che funzionano molto bene con questo mazzo qui specifico e vi consiglio di provarlo se ancora non l'avete provato andiamo avanti con la quarta lista per gli appassionati di Jurassic Park ecco qui un bellissimo mazzo dinosauri completo delle asteroide che li ha pure sterminati questo mazzo è uno dei mazzo preferiti dai giocatori e posso anche capire il perché è molto divertente da giocare ed è molto consistente faccio vedere che se voi capete il dinosaurio che comunque vi faccio vedere è tutte carte all'interno di questa confezione quindi per chi volesse costruire questo mazzo e provarlo in classificata si trova tutto all'interno di un box e devo dire che questo deck può anche non giocare l'extra deck quindi noi risparmiamo risorse dal fatto che ci mancano se ci mancano tanti mossi synchro dobbiamo spendere risorse per costruirli tutti possiamo ovviare a questo problema giocando semplicemente i dinosauri abbiamo una boost l'apriamo, montiamo questo deck e in più possiamo anche giocarlo in classificata che vi assicuro che è un mazzo da non sottovalutare questo deck sapete benicinamente che funziona evocando il tirannosauro finale che ha un effetto che mette coperto tutti i mossi sul campo quindi andare per primo e mettere lui sul campo è veramente overpower ma non solo ho messo una cosa speciale il vero re Lito Shajim guardate che dice se questa carta è nella mano distruggi due mostri nella mano o terreno scoperto che è compreso un mostro terra e se lo fai evoca questa carta e tutti i nostri mostri dinosauri quando vanno al cimitero attiveranno i loro effetti continuiamo se fai quello e entrambi i mostri giusti erano terra come tutti i mostri nel nostro deck puoi guardare l'extra deck del tuo avversario e bandire fino a tre mostri con nomi diversi turno 1 guardate l'extra deck del vostro avversario vedete cosa vi preoccupa di più e lo bandite oppure turno 2 stessa cosa lo evocate guardate cosa vi può far paura e voi grazie a questa carta che io sto mangerando ora voi riuscirete a avere meno problemi contro queste carte e a farmare subito l'evento ma adesso andiamo all'ultima lista di oggi quinta decklist di oggi il mazzo punk questo mazzo la potenza sta nel fatto che può giocare tutte le carte trappola a mano che vuole lui perchè possiamo guardate qui quanta quantità di carte che ho messo max c fioritura gamma impermanenza scontro cadarmi pari ho messo richiamo dalla tomba ho messo il designatore e potrei pure continuare potete giocare orco fantasma dissipatore nibiru questo mazzo è l'essenza delle carte trappola a mano ne potete giocare tantissime come volete voi e soprattutto se vi danno fastidio quei match che evocano tante evocazioni fanno turni lunghissimi o semplicemente volete rendere la vita del vostro avversario un inferno giocate questo mazzo negandoli la qualsiasi carta lui voglia attivare anche qui le extra deck ci sono delle carte che io ho voluto inserire per darvi qualche spunto sono sicuro che comunque molti di voi avranno già queste carte mi raccomando le carte in questo caso dell'archetipo punk jam punk drago incredibile vanno giocate perché appunto sono carte dell'archetipo detto ciò questo era tutto per il video di oggi vi ringrazio per la visione vi ringrazio a tutti quanti quelli che sono arrivati fin qui fatemi sapere qua sotto con commento cosa ne pensate di queste liste che vi ho portato oggi e fatemi sapere soprattutto se siete riusciti pure voi a completare l'evento con una di queste decklist detto ci vediamo in un prossimo video qui sul canale io vi saluto ciao a tutti